Di nuovo insieme per la nostra rassegna stampa, ci occupiamo della capitale iniziando dalla prima pagina del tempo, il titolo che troviamo in apertura è eloquente, al malarsi sempre di lunedì, boom di dipendenti pubblici che allunga nel weekend, pochissime visite fiscali, tanti furbetti, nel Lazio 860 mila certificati, i dipendenti pubblici del Lazio sono i più cagionevoli d'Italia, scrive Sbraga senza ironia e anche quelli del settore privato non si sentono tanto bene, più malatici di loro se ne trovano solo in Lombardia. Questo è lo stato di salute dei lavoratori dipendenti, visto dall'astrofratorio IMSS che indica il Lazio al primo posto, del settore pubblico con 860 mila 226 certificati di malattia inviati nel 2015, pari al 13,7%, seguono Sicilia, Lombardia e Campania, il Lazio è anche al secondo posto per il settore privato con 1 milione e 353 mila 775 certificati medici pari all'11,2%, ma in una sola cosa i lavoratori di tutta Italia sia pubblici che privati sembrano uniti, dalla sindrome del lunedì che vede colpire con i suoi malanni circa un terzo dei malati. A centro pagina una fotonotizia dedicata alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, guadagna più di Renzi, è giusto? La domanda che si pone il tempo. Studio denuncia dell'ADUC per lei oltre 5 mila euro al mese. Sì, perché la sindaca lavora tanto, scrive Donato Robilotta, no per la morale grillina sulla casta, scrive invece Gianfranco Rotondi. Sono le due posizioni, un interessante affrontimento all'interno del tempo. Gli altri titoli, Franceschini gioca da solo, il Totopremier via alle consultazioni, stabilità in mancette, il pezzo di Alfonso Celotto, ma la destra cosa fa? Scrive Luigi di Gregorio. Poi ancora il generale della finanza Buratti, bloccata dalla corruzione, la metro C non finirà mai, è il virgolettato. Caccia all'italiano in Brasile, terza esecuzione, ritrovato in una favela, è una notizia che abbiamo già trattato in precedenza, multe cancellate ai VIP, spunta pure Candela, scoperti anche permessi ZTL falsi. E infine in taglio basso troviamo questa notizia, l'università delle biciclette rubate, gli autori dei furti erano due addetti alle udizie. Adesso andiamo invece sul Corriere della Sera, sezione romana, per le notizie messe in evidenza sul quotidiano. Ritornano smog fino a domenica in città, soffochiamo, limiti di PM10 già superati e previsioni neri a corollario del pezzo che abbiamo letto in precedenza, anche Roma quindi è colpita dallo smog, complice anche il freddo. Poi ancora quest'anno storni al mare, il guano risparmia il centro, il pezzo di Lilli Garrone per le questioni ambientali, marcia piedi invasi, si sta come d'autunno sotto gli alberi le foglie. L'investimento ingente per la pulizia e lo spazzamento della città da 14 milioni di euro presi dai fondi del giubileo è stato deciso lo scorso 2 settembre dalla giunta Raggi, ma le strade da Viale delle Milizie a Via Angelo Emoda, Regina Margherita e Periodi sono invaste dalle foglie. Per fortuna le piogge sono state clementi, le calitoie sono sommerse al punto che non si vedono insufficienti. Le 100 squadre di Ama attacca l'agronomo Franco Milito. Quando la fantasia è al potere, scrive Alessandro Capponi, attacche smentite, l'amministratore unico di attac, Manuel Fantasia, si è rappresentato come del resto la giunta gherlina che lo ha scelto, parlando di trasparenza e discontinuità. Vale la pena ricordarlo, prima di raccontare quanto accaduto nelle ultime settimane, il Corriere con Erika Dallapasqua ha informato i lettori dell'esistenza di un accordo della sesta azienda dei trasporti con i sindacati per la gestione del servizio Mensa. Il giorno seguente Atac ha annunciato querela e finalmente anche una gara per la gestione del servizio. Due giorni fa però abbiamo svelato anche i dettagli di quell'accordo tenuto segreto, 1,1 milioni di euro per la gestione della Mensa, stessa cifra garantita ogni anno dal 2017 per le attività ricreative del dopolavoro. L'azienda che fino al giorno prima negava perfino l'esistenza di un accordo con i sindacati ha nuovamente smentito, purtroppo per fantasia però, stavolta ha dovuto in buona parte confermare le cifre pubblicate. C'è dell'altro, il servizio Mensa ha fin qui sfruttato al dopolavoro tanti soldi pubblici, 4 milioni di euro l'anno, in un regime di affidamento diretto, tanto che l'ex DG Rettighieri con quegli accordi appena disdettati sotto braccio ha bussato la procura. È però la nostra attenzione su una partita così importante per un'azienda devastata dallo sperpero del passato, con i romani in perenne attesa delle fermate, evidentemente non è piaciuta. Ad ogni articolo una smentita è l'annuncio di querela. Fantasia, sia pure tranquillo, continueremo ad occuparcene da queste parti, crediamo nella trasparenza e non come slogan elettorale. E questo era il pezzo di Alessandro Capponi per il Corriere della Sera. Continuiamo proprio sul Corriere della Sera per le notizie da Roma. Io so, Pasolini riappare, le statue in cima ai palazzi, il mistero dei busti dello scrittore Pierpaolo Pasolini torna a vegliare sulla sua ostia, la guarda dall'alto con un'espressione un po' carrucciata, quasi a rammentare i guasti e i peccati della città, che lo ha visto morire 41 anni fa. È ormai un vero giallo, quello del ritorno del poeta, sotto forma di statue che lo ritraggono, posizionate da ignoti sui palazzi del mare di Roma. Il giallo della ragazza scomparsa, Zhang, ora spunta la vista degli affari di famiglia. La prima cosa che faranno una volta a Roma non sarà andare dalla comunità cinese per ricevere notizie sulla scomparsa della figlia. La madre e il padre di Zhang Yao, un alto dirigente di banca della Mongolia interna, compariranno di fronte agli investigatori per fornire spiegazioni sulle loro attività e confermare se di recente abbiano avuto minacce dirette alla figlia. Al quarticciolo, grande paura, brucia un bus e siamo a 10, scrive Maria Egizia Fraschetti, mentre in taglio basso vediamo il concorsone, prova scritta con 1177 voti uguali. Sentenza, la commissione da rifare, comune licenze ai vincitori, 8 architetti ricorsi in arrivo. Il Campidoglio ha notificato la lettera di licenziamento agli 8 architetti che hanno vinto il concorsone indetto nel 2010. Il motivo è per i voti troppo simili per i 1177 concorrenti e troppo peso discrezionale dei titoli. Per il Tar sono illegittimi i criteri di valutazione della prova scritta e quindi lo sbaglio e della commissione esaminatrice, cioè del comune, ma pagano i vincitori del 2010 che ora preparano nuovi ricorsi. I due trafiletti che riguardano il calcio sul Corriere della Sera, Lazio domani in campo, Keita recuperato per la Sampdoria, uno recupera a sorpresa quello di Keita che sarà in campo a Genova contro la Sampdoria nell'anticipo di campionato, deludente nelle ultime gare, l'attaccante deve subito uscire dalla crisi. Mentre la Roma trova il pareggio in Europa League, l'attenzione è riposta sul caso Strotman il giorno del giudizio, oggi la corte sportiva d'appello decide sul ricorso presentato dalla Roma contro la squalifica di Strotman per due giornate, ieri sera 0-0 con l'Astra Giurgio, lunedì il sorteggio dei sedicesimi di Europa League. Ed andiamo brevemente sul web per leggere qualche notizia. Abbiamo accennato al caso della ragazza scomparsa, la ragazza cinese a Roma, approfondiamo allora la questione, sparita nel nulla da due giorni dopo essersi recata all'ufficio immigrazione di Via Patini a Roma per ritirare il permesso di soggiorno. Per motivi di studio si indaga per far luce sulla misteriosa scomparsa di Zhang Yao, una studentessa cinese di vent'anni nella capitale per frequentare un corso all'Accademia delle Belle Arti di Via di Ripetta nel cuore della città. La notizia oggi è riportata da alcuni quotidiani. Aiuto, mi stanno aggredendo, avrebbe detto la giovane telefonando ad un'amica lunedì pomeriggio prima che cadesse la linea. L'amica ha dato l'allarme e sono scattate le indagini dei poliziotti del commissariato Casilino, tra le ipotesi che si è stata vittima di rapina e di un sequestro di persona. Al vaglio i firmati delle telecamere di videosorveglianza della zona e le celle telefoniche agganciate dalla ventenne con il cellulare. Gli investigatori stanno ascoltando in queste ore anche gli amici della ventenne per ricostruire le sue frequentazioni come ha trascorso le ultime ore prima della scomparsa. Si stanno scandagliando anche gli ambienti dei campi nobadi, visto che proprio a ridosso dell'ufficio immigrazione c'è l'insediamento di via Salviati. Adesso ci fermiamo, abbiamo servito il tempo a nostra disposizione. Questa era l'ultima notizia per oggi, vi ringraziamo per l'attenzione e vi rimandiamo ai prossimi appuntamenti con la rassegna stampa. Arrivederci.